dossier la vera identità di romano prodi conoscete walt disney anche noi sapete quanto è famoso walt disney quanti bambini seguono le avventure create da disney quanti genitori apprezzano l'intero mondo disneyano quindi romano prodi è walt disney no ma ci siete quasi sapete che in italia c'è il governo anche noi sapete che il governo in questo squarcio di secolo è rappresentato dal centro-sinistra e sapete che il compito del governo è attuare il programma proposto dagli elettori prima del voto in modo da ottenere consensi dall'opinione pubblica e poter quindi nuovamente vincere le prossime elezioni politiche quindi romano prodi è l'opinione pubblica no mi meraviglio di voi siete proprio fuoristrada conoscete winnie de pooh no ma è un simpaticissimo e dolce orsacchiotto di pezza giallo vestito sempre con una t-shirt rossa chiama il miele e colpisce il cuore dei più sensibili con una soffice voce delicata accompagnato da degli strani rantoli un po rauchi ma molto rassicuranti quindi romano prodi è winnie de pooh? sì ragazzi romano prodi è winnie de pooh lo so è difficile crederci ma giudicate voi stessi guardate il sorriso di winnie de pooh e guardate quello di prodi sono identici due avete mai sentito parlare winnie de pooh? beh alla voce di romano prodi soprattutto quando fa quella specie diverso 3 romano prodi va matto per un buon vasetto di miele specie quando vi ronzano attorno sciami di api 4 nei suoi cartoni animati winnie de pooh non si è mai dimostrato euroscettico 5 durante il suo mandato di presidenza ue romano prodi è stato visto più e più volte conversare amabilmente con un adorabile maialino rosa e una tigre col manto a di presidenza ue romano prodi è un po' di presidenza ue romano prodi è un po' di presidenza collegati al sito www.portogheseesclusi.net